Sì, è già mai operato in risopartie Vabbè, senti, hai fatto anche la modella... Hai lavorato mai in biblioteca? Come animazione? No? Mi facciamo fare uno sacchetto d'animatrice? Vabbè, parli così, tranquillamente con noi, accompagni il pubblico Allora, DJ, ce l'abbiamo un pezzo? Ce l'hai? Dai! Oh, che bella! Dai, altri cinza secondi, vai! Bravissimo, Matturice! Allora, vai con la musica E DJ lo fai presentare, se fai una vocalist Una vocalist E la vedete, vai giù, ti trovo, no? Ok Presente DJ, si chiama Gianni Garzia La potete fare? Sì, è arrivata a Napoli? Sì! Sì! Vabbè! Allora, ragazzi Sicuratori per la fegna! Allora, vabbè ragazzi